E' bella ragazzi ed eccomi tornato, sono Frax con un nuovissimo video sul mio canale Oggi siamo sempre con il Frax delle ore 19 che è immancabile Prima di iniziare il Frax, tre cose, stavolta sono tre La prima, salutiamo l'ultima persona che ci ha lasciato like su Instagram E vediamo un po' chi è, aggiornando, è JF7Andrew Che mi ha lasciato like un secondo fa E quindi lo salutiamo e poi andiamo a vedere anche l'ultima persona che ci ha seguito Che è Francesco Piccheo, che ha un profilo privato quindi non posso lasciarti mi piace E poi c'è Ibraho99, oh non mi fa cliccare Eccolo Ibraho, è lui, è Ibraho e gli lasciamo mi piace su questa fantastica pelata Ho già scritto Ibra in testa ma è un genio questo uomo, grande Quindi vi ricordo a tutti di seguirmi su Instagram, imfrax, imfrax La seconda cosa da dirvi è di andare a vedere il video che è uscito oggi alle ore 15 Quindi il video precedente a questo nell'uscita che è una sfida di FIFA con Gabbo È stato forse il video che ho editato di più sulla mia storia su YouTube Probabilmente e ci tengo veramente tanto perché è venuto molto figo Quindi andatevelo a vedere e magari spolliciatelo un po' E a proposito di spolliciare, la terza cosa prima del frax È 10.000 like su questo video per avere un altro frax domani alle ore 19 Ma passiamo alle domande La prima che non è una domanda La prima l'ho messa perché mi ha fatto morire dalle risate È stata una domanda presa per il culo Della mia presa per il culo sui scherzi telefonici Di Step Show che ci si dice Frax, fai uno scherzo telefonico al tuo cane Dove gli dici che hai mangiato i croccantini È geniale, è semplicemente geniale Infatti hai preso pure 235 più 1 diciamo al tuo commento È veramente stato geniale questo commento E mi stavo tagliando da solo, quindi grande DR, che se ci metti in A alla fine non è bellissimo Questa cosa di chiedere mi piace vi sta sfuggendo di mano Bella Frax, ma perché a voi YouTube vi interessa così tanto i like, i mi piace? Ciò che conta non sono le visual Bella sei un unicorno Allora, intanto grazie per l'unicorno Mortacci tua E ho risposto ovviamente, rispondo a tutte e due le domande Vi sta sfuggendo di mano la cosa di chiedere mi piace E perché chiedo i mi piace, ok? Quindi proprio papale papale Allora, i mi piace non portano guadagno allo YouTuber In alcun modo Se tu mi lasci 28 milioni di mi piace Io non guadagno su quei 28 milioni di mi piace Ma se tu ti guardi il mio video 28 mila volte da 28 milioni di dispositivi diversi Allora mi puoi portare dei soldi Ma non vi chiedo, compratevi 28 milioni di cellulari così che guardate i miei video No Perché vi chiedo di lasciare mi piace? Perché i mi piace allo YouTuber Servono a far capire se quei video che fa piacciono alle persone che guardano il video o meno Quindi se io sono arrivato al quarantesimo, quarantunesimo, non so che cazzo l'episodio è Quarantaduesimo, to Episodio del Frax È solamente perché io per 42 episodi Ho raggiunto 10 mila like e oltre ai miei Frax Vuol dire che ho preso più di 400 mila mi piace, ok? In 40 video Solo con i Frax Quindi cosa vuol dire? Che i Frax Time vi piacciono E io continuo a portarveli infatti regolarmente tutti i giorni alle ore 19 E non smetterei, non smetterò Fino a quando vedo che non iniziate più a lasciare mi piace perché non vi piace il video Comunque vanno rotto i coglioni di Frax Quindi se lasciate un mi piace, se aprete un video Vi piace quella serie o comunque ve la guardate ogni tanto Vi strappa una risata Lasciate sempre mi piace Ma non dico al mio canale per forza Fatelo sempre con tutti i canali che vedete Tutti quanti i video che vedete Se c'è una serie che vi piace mettete sempre mi piace Per l'appunto, incredibile Ma anche se vi piace solo un video e basta Slikeate Tanto a voi non costa nulla È un click E a noi ci fa molto contenti E non ci porta un guadagno Quindi manco ci potete cagare il cazzo Andrea della Site Frax Anche se so che ti firò Ma cosa ne pensi della stagione della Juventus quest'anno? Pensi che riuscirà a fare l'impresa triplete? Bella, bufalo Allora intanto non rispondo se riuscirà a fare l'impresa triplete o meno Perché sennò poi gliela potrei gufare o robe Quindi voglio essere imparziale Però sinceramente io posso dire che Sono contento della Juventus quest'anno Allora io non sono della Juventus Appunto sono della Roma E da romanista Ma non solo da romanista Proprio da Francesco Io odio la Juventus Che è una squadra tipo stronza Capito? Tipo quello che alle medie Aveva più pennarelli di te Era stronzo Perché aveva più sordi Per comprarsi i pennarelli La stessa cosa è per la Juventus Dal mio punto di vista Però quest'anno Dato che ha una grandissima squadra E gioca veramente benissimo Si è meritatissima il campionato In assoluto È arrivata dove è arrivata Alla Champions Vedremo anche come andrà a finire E anche Sta anche in finale Di Coppa Italia Quindi sicuramente Gli posso augurare il meglio Perché spero Che la Juventus Contribuisca Ad aumentare il livello Del calcio in Italia Dato che Abbiamo stati diciamo I pionieri del calcio Per tanti anni Abbiamo avuto le grandissime leggende Prima venivano in Italia Per poi andare a fanculo A giocare da qualche altra parte Mentre oggi invece È un po' il contrario Diciamo Quindi si Mi auguro che la Juve Faccia una buona annata Quest'anno Come altrettanto Mi auguro che l'anno prossimo Faccia cagare al cazzo E arrivi ultima in classifica Però Per quest'anno Gli auguro Gli auguro il bene Diciamo Gli auguro il meglio Forza Roma Demark Fraxone Come va la gamba E con l'operazione Che devi fare al collo Aggiornaci Ciao Fraxone Grazie per la foto E per aver parlato Quei due minuti a Romics Che mi ha reso strafelice Grande Demark Perché si A Romics Quando c'è poca gente Così io comunque Sto lì in mezzo E due chiacchiere Le scambio con chiunque Ne abbia voglia Insomma quindi Mi ricordo forse pure di te Demark Bravo Allora come va con la gamba Molto meglio Ci devo mettere il ghiaccio Non posso correre Non posso saltare Non posso fare cambi di direzione Quindi se Che inizio a camminare dritto E devo girare a sinistra E mi devo fermare Faccio ta 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 E giro a sinistra Sembro tipo un robottino Però va meglio diciamo Comunque ci cammino Con la gamba Riesco a stare in piedi Quindi non mi lamento troppo E a novembre Mi opereranno al ginocchio Perché mi possono operare Solamente con i mesi freddi Perché se no C'è il rischio di infiammazione Ora vi spiego pure Perché c'è il rischio di infiammazione Perché prendo un farmaco Per la malattia Quella là che ho al collo Così si chiama la Takayasu E il farmaco si chiama Infliximab Potete andare velo a cercare Vi fate due risate E vabbè Operazione di fare al collo Non devo fare nessuna operazione al collo Devo solamente prendere Questo farmaco Per il resto della mia vita E ciao frazze Grazie per la foto Grazie a voi Grazie a voi Per i vostri mi piace I vostri E voi che mi seguite Su Instagram Siete delle persone fantastiche Grazie anche a tutti quanti quelli Che tutte le sere Alle 19 Hanno questo appuntamento fisso Insieme a me Ci scambiamo questi 5-10 minuti Insieme Ma mi raccomando Lasciate un mi piace Sotto questo video Perché così capisco Che vi piace la serie Da Frax è tutto Ancora grazie mille Bella